Vediamo un esercizio per valutare se abbiamo un deficit di equilibrio, quindi una possibile malattia di Meniere. Allora ci posizioniamo con i piedi uniti e le braccia aperte. Se già non riusciamo a stare in equilibrio con piedi uniti e braccia aperte, allora è probabile che abbiamo un deficit di equilibrio. E eventualmente possiamo anche chiudere gli occhi. In ogni caso dovremmo riuscire a rimanere abbastanza stabilmente in equilibrio. Nel caso non riuscissimo, anche in questo caso posso pensare di avere un deficit di equilibrio sicuramente meno grave rispetto al caso precedente.